Fano dunque secondo voi è il fanalino di coda della provincia? Sì, poi abbiamo appena saputo che la regione ha scelto il progetto della Renco per la costruzione dell'ospedale unico a Muraglia, guarda caso proprio coloro che hanno finanziato parte della campagna elettorale di Ceriscioli, quindi questa situazione ci fa pensare che Pesaro avrà la polpa e noi fanesi il solito piatto di lenticchie, perché a Pesaro ci sarà l'ospedale nuovo, faranno dei lavori per allungare la bretella dell'interquartiere, verrà costruito un nuovo casellino e Fano cosa rimarrà? L'ospedale Santa Croce che non verrà chiuso ma sappiamo che avrà all'interno pochissimi reparti, non ci sarà più il punto nascita, non ci sarà più pediatria, si parla di chirurgia ma non si è capito ancora che tipi di interventi verranno fatti e detto questo ci dà alla regione 20 milioni per costruire una strada per Pesaro, ne servono 100 quindi gli altri dove andremo a prenderli e tra l'altro vorrei anche dire questo ai nostri politici, il 4 marzo ci sono state le elezioni nazionali e gli italiani hanno dato un bel indirizzo, mi sembra di cambiamento, se dovesse succedere la stessa cosa a Fano ci sarebbe da temere veramente che la regione tra due anni potrebbe cambiare colore, la rossa passare a essere gialla, allora a quel punto chi garantisce che rimarranno in piedi queste convenzioni perché per noi è fondamentale investire nel pubblico. Nel comunicato stampa parlate anche di un commissario d'emergenza. Sì abbiamo fatto questa provocazione perché in effetti fanno sembra commissariata da Pesaro e adesso ci troviamo in effetti il sindaco Seri che è assolutamente d'accordo con la linea regionale e quindi abbiamo fatto questa sorta di battuta, una provocazione dicendo se dobbiamo essere commissariati da Pesaro o comunque le decisioni devono essere prese altrove e Fano le deve subire tanto vale che ci mettiamo un commissario e non un sindaco.